Hi, I'm Federica Ferro, an Italian actress and singer, and I will do for you every voiceover that you need. There are some examples. Stanco della solita spossatezza estiva? Sei pronto ad essere sempre nella tua forma migliore? Prova Supradin, in farmacia! 3, 2, 1, sei su, Radeo Milano. Siete in linea con Paletti Elettrotecnica. Al momento tutti i nostri operatori sono occupati. Vi preghiamo di attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. Grazie! Non smettere di cercare ciò che ti rende felice. Pasta de Cecco, dal 1886, sulle tavole degli italiani. Ma la festa è qui! Con le nuove bambole LOL Surprise puoi divertirti creando nuovi look strepitosi! E non dimenticarti di condividere i tuoi look con l'hashtag LOL Surprise, le uniche e originali giochi preziosi. Amnesia, Ibiza, the best global club. Da 25 anni ci occupiamo di assicurazione e salute di aziende, di ogni settore e dimensione. Il Madagascar è la quarta isola più grande del mondo e si trova a 400 chilometri dalla costa sudorientale dell'Africa. Che cosa bisogna fare? Disse il piccolo principe. Bisogna essere pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così nell'erba. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. E fu così che il piccolo principe addomesticò la volpe.